Festa USB 6. edizione. Noi non dimentichiamo. 28, 29 e 30 agosto 2020. Piazza Loiucco, Talsano Taranto. Si ringraziano? Pet Garden, via per le porano Talsano Taranto. Tutto per i piccoli e grandi animali. Attrezzature per il giardinaggio. Ornitologia. Acquariologia. De Quarto SRL. Corso Vittorio Emanuele 404 Talsano Taranto. Colorificio. Cartongesso. Decorazioni per interni ed esterni. Materiali isolanti. Attrezzature edivi. Seguino. Via Mediterraneo 119 Talsano Taranto. Commercio in grosso prodotti e materiali civili. Industriali. Navali. Avionici. Europan Sud. Viale Unità d'Italia 710 Taranto. Tradizione ed innovazione al servizio della grande distribuzione. Offri ai tuoi clienti il buon pane di una volta. Fresco il forno ad ogni ora del giorno. Panificio Ideal Forno. Corso Vittorio Emanuele 119 Talsano Taranto. Panetteria. Pane casereccio con lievitazione naturale. Tarallini. Taralli al pepe. Biscotti da latte. Rustici. Saltimbocca. Focacce di ogni genere. Cornettini rustici. Panzerotti. Arancini. Panettoni artigianali. Torrone. Prodotti tipici. Primus Bar. Corso Vittorio Emanuele 279 Talsano Taranto. Caffetteria. Cornetteria H24. Lounge Bar. Piadineria. Pasticceria. Un'ottima location abbinata alla qualità e alla professionalità per festeggiare i tuoi eventi. Non è il solito bar. È Primus Bar. Girasole. Gelateria. Bar. Ristorante. Viale dei Micenei Pulsano Taranto. La cucina è una storia d'amore. Bisogna innamorarsi dei prodotti e poi delle persone. Assoluta qualità e professionalità in una cornice da favola che si affaccia sul mare. Il posto ideale per eventi e ricorrenze. Fuorimano Food and Drink. Viale Europa 202 A Talsano Taranto. Specialità per ogni gusto. Menù pizza. Menù carne. Il piacere di bere in compagnia ed in allegria. Serate con eventi musicali. Fuorimano Food and Drink. La qualità non è un caso, ma una scelta. Voi scegliete cosa vi piace. Il resto lo facciamo noi. Chateau Bistro. Hamburgeria, paghetteria, pizzeria. La qualità e il gusto abbinati al fascino dell'antico castello. Chateau Bistro. Piazza Plebiscito 8, Lizzano Taranto. Tabaccheria Edicola Cella Mare. Via Litorania Salentina. Centro Commerciale Santo Mai. Leporano Taranto. Tabacchi. Valori bollati. Giornali e non solo. Anche l'ottomatica eppure. Rivendita autorizzata cupono Babaluba. Pagamento bollettini postali e bancari. Ricariche carte. Ricariche poste pay. Effettuazione bonifici. Pagamento tasse e tributi e tanto altro ancora. Festa USB 6. Edizione. Noi non dimentichiamo. 28, 29 e 30 agosto 2020. Piazza Loiucco, Talsano Taranto.